Grazie a tutti E' chiaro che purtroppo ahimè il primo giovedì è stata una tromba d'aria inaspettata, tanta paura, è andato benissimo, per fortuna siamo stati molto bravi anche alle installazioni, però gli altri giovedì sono stati infinitamente bene, sono contento, la gente comunque ha dimostrato che ha voglia di uscire, voglia di in qualche modo creare di nuovo il bene comune e di nuovo la società. Per cui veramente tantissima gente, i commercianti hanno seguito la cosa, sono negozi aperti, sono contento, sono molto contento, soddisfatto. Io devo ringraziare Broco, come devo ringraziare i dipendenti e anche i collaboratori sia del comune che di SGP e tutte le associazioni che in qualche modo hanno reso possibili questi giovedì. E' una grossa collaborazione proprio per raggiungere un obiettivo, un fine comune, quello che è di rendere i giovedì sera comunque belli per i cittadini ma non solo, anche appettibili dal punto di vista commerciale. Un grosso ringraziamento veramente a tutti. Un grosso ringraziamento